la sete la sete di dio la sete di acqua la sete più in generale delle creature questo è il tema che accomuna le letture di questa terza domenica di quaresima soprattutto la prima lettura il vangelo la sete intesa come desiderio in alcune religioni il desiderio è considerato la prima causa di infelicità ad esempio al cuore del buddismo troviamo che la rinuncia al desiderio è il primo passo per camminare verso la felicità poiché si dice che la vita è sofferenza che la causa della sofferenza il desiderio l'unico modo di essere felici e liberarsi dal desiderio tramite una vita contemplativa in tutto questo c'è del vero anche se la visione cristiana è molto diversa certamente è vero che gran parte della nostra infelicità è dovuta al fatto che desideriamo male cioè desideriamo ciò che non potremo mai avere in pienezza e in modo duraturo pertanto il desiderio genera in noi la frustrazione e l'infelicità desideriamo di essere amati desideriamo di incontrare una persona che corrisponda un nostro ideale desideriamo una famiglia dei figli desideriamo la buona salute desideriamo la ricchezza successo una vita senza troppe fatiche senza sofferenze il problema è che questi desideri non possono trovare pieno e duratura pagamento nella nostra vita a volte cadono come stelle cadenti ricordo che la parola desiderio deriva da sidaris stella e lasciano purtroppo nel nostro cuore un vuoto incolmabile ebbene la donna samaritana aveva cinque mariti aveva avuto cinque mariti ma in realtà era come se non ne avesse mai avuto uno aveva impostato tutta la sua vita sulla ricerca di una persona che potesse corrispondere alla sua sete di affetto di amore l'incontro con gesù le fa intuire che dietro a quella sete di creature c'è un'altra sete più profonda più vera più autentica quella dell'acqua viva che gesù le stava offrendo ma quando chiede l'acqua viva gesù la rimanda alla sua vita che potremmo definire disordinata perché l'acqua viva la riceviamo proprio se camminiamo nella verità ebbene l'acqua viva che gesù dona sappiamo che è lo spirito santo come leggiamo nel capitolo settimo sempre di giovanni gesù gridò se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come dice la scrittura dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva e questo gli disse annota l'evangelista dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui quindi l'acqua viva lo spirito santo che gesù ci vuole da donare e che secondo san paolo è l'amore stesso di dio riversato nei nostri cuori se noi ci dissettiamo di questa acqua viva di questo amore che lo spirito santo dice gesù non avremo più sete non nel senso che non avremo più desideri ovviamente ma nel senso che tutti i desideri saranno come ricondotti a uno solo amare dio compiere la sua divina volontà e allora poco importa se i nostri desideri non si realizzano perché ciò che conta è che si realizzi in noi la volontà del padre i santi in questo sono dei maestri hanno sempre insegnato che se noi rimaniamo fedeli al signore dobbiamo e possiamo credere che tutto ciò che ci capita eccetto naturalmente il nostro peccato è volontà di dio quindi non ci può essere nulla che faccia venire meno questo desiderio bellissimo desiderio che si compie nella volontà di dio il desiderio della santità san massimo il confessore spiegava tutto questo con un'immagine molto eloquente quando sorge il sole l'occhio non vede più le stelle ecco quando sorge il sole che è gesù la luce di gesù nel nostro cuore il nostro cuore non è più agitato a causa del desiderio di realtà terrene delle miriadi di stelle verso cui generalmente siamo orientati quando sorge la luce di gesù nel nostro cuore rinunciamo a mormorare contro dio come hanno fatto gli israeliti nel deserto perché proprio assillati dalla sete della sete materiale prima lettura rinunciamo a mormorare contro dio perché siamo certi che dio non ci lascerà mai mancare l'acqua viva che scaturisce dalla roccia che è cristo stiamo vivendo un tempo molto particolare specialmente per la mancanza dei sacramenti ma tutto questo starà vivando in noi la sete di gesù in particolare la sete della santissimo carestia questo vangelo ci dà una chiave di lettura molto interessante per affrontare questo momento quando gesù risponde alla samaritana alla domanda su dove bisogna adorare dio dice viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità così infatti il padre vuole che siano quelli che lo adorano dio e spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità ecco fratelli e sorelle la mancanza materiale fisica dei sacramenti perché i sacramenti sono segni sensibili non ci impedisce di adorare il padre in spirito e verità in spirito cioè coinvolgendo la parte più profonda di noi stessi il nostro cuore e animati dallo spirito santo in verità cioè in unione a cristo che è la verità la verità di dio la verità dell'uomo nell'atto di offrirci con lui in lui in sacrificio d'amore al padre per la nostra salvezza quella di tutti gli uomini e quindi in comunione con tutte le sante messe che i sacerdoti continuano a celebrare sebbene a porte chiuse in questi giorni nelle nostre case impariamo a sostare davanti al crucifisso lasciamo che risuonino in noi quelle parole che gesù ha detto poco prima di morire ho sete come ha fatto con la samaritana gesù fa crescere in noi la sete di lui ricordandoci questa cosa incredibile che lui ha sete di noi che dio ha sete del nostro cuore del nostro amore della nostra riparazione ha sete di una vita benedetta di una vita abbandonata la volontà di dio di una vita in cui lottiamo con tutte le forze contro il più grande nemico che è il peccato è noto che la vocazione di santa teresa di calcutta è nata come una risposta a questo grido di gesù in croce o sete ma questo vale è per ogni battezzato lasciando risuonare in noi questo grido o sete dammi da bere non solo si accrescerà in noi la sede di dio ma questo ci porterà a desiderare non tanto che gli altri corrispondano alla nostra sede di amore ma che noi possiamo con la nostra carità la nostra compassione il nostro affetto corrispondere alla sete di amore di affetto di stima dei nostri fratelli che sono nella prova soprattutto coloro che non hanno mai attinto al pozzo dell'acqua viva che è cristo che il signore ci doni di fare confluire ogni nostra sete nella sete di dio che poi non è nient'altro che la virtù teologale della speranza per la quale desideriamo attendiamo da dio ogni pene sapendo che chi confide in lui non resterà confuso in eterno per questo san paolo scrive nella seconda lettura la speranza non delude perché l'amore di dio è stato diversato nei nostri cuori per mezzo dello spirito santo che ci è stato dato amén